Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Questi nemici, oggi abbiamo detto di nuovo la magistratura, Chiara Ferragni, chiunque viene preso, i giornalisti, danno un segno di nervosismo. Se ci credete a questa cosa, come mai non vi unite e non la battete? Se è facile. Ma lei secondo me purtroppo capisce meglio di noi come stanno le cose nel profondo perché nell'elettorato italiano fra area di governo e area non di governo più o meno c'è in equilibrio. E' così da vent'anni. Il problema è sempre stato e è tradurre in politica il potenziale. Tutto qua. Lei è un po' così, diciamo ogni tanto un po' rabbiosa. Ha bisogno di nemici. Ha bisogno anche di provare a dividerci, a dividere le forze d'opposizione. Ha bisogno di provare con delle misure di propaganda a entrarci in casa, magari nel profondo del paese. Io dico che il modo di reagire è passare al cantiere dell'alternativa. Che è fatto prima di tutto di un gesto politico. Apriamo il cantiere, siamo un'alleanza per l'alternativa, vogliamo creare un campo con forze civiche, sociali, eccetera. Questi sono i nostri valori fondamentali. Le cose che ci differenziano le vedremo assieme, le normalizzeremo. Troveremo anche un compromesso. Compromesso è la comune promessa. Ci si lavora, c'è un percorso, non si fa in un mattino. Ma se la siamo troppo implicita, inespressa, aleatoria, l'idea che si voglia fare questa alleanza, si voglia fare questa alternativa, noi diamo un vantaggio. E se poi magari la facesse, si penserebbe che è una cosa fatta all'ultimo per le elezioni. Presidente Conti. No, assolutamente. Ma io dico che il nostro obiettivo è di costruire un'alternativa di governo, un obiettivo che ci impegna tutti i giorni. E un seme l'abbiamo già depositato con la proposta di un salario minimo. Dobbiamo continuare così, su temi specifici, obiettivi condivisi. Quello che secondo me, l'unica cosa, non funzionerebbe, siccome siamo due forze, io parlo per il Movimento 5 Stelle, che ha una vocazione, DNA, caratteristiche, a non recitare da parte di un cespuglio. Ma vuole pieno rispetto della dignità, riconoscimento della reciproca autonomia? Devo fare un percorso, un metodo di lavoro, in cui quotidianamente si lavora verso questo obiettivo, che non è l'edito di domani mattina, quindi abbiamo un po' di tempo per costruire, con obiettivi condivisi, in modo a poter arrivare con una seria alternativa credibile. Domani mattina, se avremo questa responsabilità, dovremo poter dire anticipatamente, noi faremo questo, questo e questo. Non dateci il voto, che poi andremo noi a costruire chissà che cosa. Vi servirebbe un federatore, una persona che vi mette insieme. Lo sa' vero che parlano tutti lei come federatore? Guarda, secondo me, siccome ogni giorno ha la sua pena, adesso ci vuole un moderatore più confuso. Questo è buono. Perché? Io mi rivolgo a Conte, sapendo che lui sa che io non ho nessun malanimo. Insomma, noi dobbiamo sapere qual è la storia. Cioè, i Cinque Stelle nacquero, io c'ero, individuando nel PD il nemico principale. Il Vaffa, Bologna, l'ho visto tutto. In anni successivi il PD individuò i Cinque Stelle come il nemico principale. Che cosa ha portato tutto questo? Cioè, tutto questo ha portato a una comune sconfitta, a un indebolimento di entrambi. Chi si è dimezzato, chi ha perso un sacco di voti. Però abbiamo ancora i residui di quello. Anche nel nostro elettorato, anche in nostri gruppi dirigenti. Abbiamo ancora i residui. Però, adesso bisogna schiodarla questa cosa. E non bastano i temi. Ci vuole un gesto politico. Perché se no, fra un po', presidente, io sarò costretto da moderatore a citare Vittorio Emanuele II. Ma siete insensibili al grido di dolore che si leva da tante parti d'Italia verso di voi. Non solo voi. Anche il PD. Anche quelli che nel PD andelleremo su questa cosa. Guardate che questa destra non è una destra qualsiasi. Questa destra, se si radica, può corrodere qualcosa di fondo in questo paese qui. Siamo convinti di questo? Perché se siamo convinti dobbiamo reagire con più nettesa. In o. Con le identità e con le pari condizioni. Con le identità e con le pari condizioni. Perché nessuno chiede di essere un paio. Le faccio una domanda. Cosa può cambiare nel paese se governa ancora questa destra? La frase di Bersani. Cosa può incidere? Innanzitutto sta succedendo questo. Che non solo ci portano al disastro economico-sociale. Perché prima stavo finendo, ci sono 400.000 famiglie abbandonate a se stesse. Il rischio povertà aumenta per milioni e milioni di cittadini. Ma c'è un altro aspetto. Io ho sollevato la questione morale. La questione morale, vedete, non è che l'abbiamo sollevata perché noi del Movimento 5 Stelle siamo moralisti o siamo bigotti. La questione morale significa una cosa molto seria. La credibilità delle istituzioni a partire dall'istituzione di governo. Il prestigio delle istituzioni. Allora, se tu ovviamente difendi e fai intervenire la solidarietà di partito, di coalizione per difendere Del Masto, Santanchè, Sgarbi, sei indifferente alla questione di Gasparri e tutti quei conflitti di interesse che si stanno creando, non te ne importa nulla, non chiedi scusa. Tu, Presidente del Consiglio, di fronte a un tuo ministro che fa fermare il treno e sputolatamente dice ma lo possono far fermare tutti, schiaffeggiando i pendolari che ogni giorno si arrabbattano per appuntamenti familiari, appuntamenti di lavoro. E se continua così tutta questa tradizione, adesso c'è Crosetto che ci chiarirà perché ha un contratto di affitto con un imprenditore che opera nel settore della cyber security collegato alla difesa. Quindi c'è un problema oggettivo. Se tu, Presidente del Consiglio... E lui dice che non paga perché ancora ci sono i lavori... Per carità, però sicuramente c'è un problema se è confermato che è un operatore che opera nel settore della difesa anche. Allora, se tu, Presidente del Consiglio, intervieni a proteggere tutto questo e addirittura vieni in Parlamento tu a mentire come sul messo spudoratamente, cosa succede? Che tu... c'è un degrado delle istituzioni, una perdita verticale di credibilità. Questo ci lascia in eredità. Bersani. E io sono d'accordo al punto che... Invece quando dovrebbero chiedere scusa, cosa dicono? Sono orgoglioso. Sono orgoglioso che mio marito ministro ha fatto fermare un treno. Guarda un po'. È questo sicuramente tutto questo. E non è solo questo perché io credo che se vediamo un po' il pantheon che stanno organizzando, si è visto anche nella loro festa. ci sono delle culture che cozzano contro qualche volta la lettera sicuramente anche lo spirito della Costituzione. Ci sono degli episodi che fanno pensare. Per esempio, poi mi accuseranno di fargli propaganda. E non lo fare allora, di breve. No, 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 che questa storia di Vannacci che gira per l'Italia raccogliendo attorno a delle tesi che sono robaccia, anticostituzionale della gente, io credo che questa sia una cosa che è stata lasciata andare troppo avanti. Troppo avanti, perché su certe cose non si può scherzare. La Costituzione dice altro. E per favore, un generale deve rispettare la Costituzione perché già giura. La Costituzione dice la russa, ce n'è una formale ma ce n'è una materiale in cui il Presidente della Repubblica ha preso sempre più potere e adesso potrebbe essere proprio la loro nuova Costituzione a limitarla. Hanno gettato la maschera, perché il tema vero è questo, ridimensionare la figura del Presidente della Repubblica e invece rafforzare ancora di più tramite l'investitura popolare i poteri del Presidente del Consiglio. Io ho fatto il Presidente del Consiglio, non ho mai avvertito di avere poco potere, anzi tantissime sono le responsabilità. Il tema vero, se vuoi contrastare la stabilità veramente, basta evitare crisi al buio e quindi col voto di una sfiducia costruttiva. Invece loro no, vogliono concentrare tutto il potere nelle mani di un Premier e attenzione, sminuire assolutamente la figura del Capo dello Stato, come ha detto la russa, non lo permetteremo. Volevo ritornare a prima, la questione morale però si abbraccia e abbraccia anche un altro aspetto. attenzione, hanno fatto la guerra contro i nullafacenti, vi ricordate i divanisti, li hanno aggrediti e poi invece fanno attreio con un multimilionario, Elon Musk, lo elogiano, lo abbraccia. Tra l'altro anche diventando ridicoli, perché come sapete il figlio, l'ultimo figlio che ha portato, figlio della gestazione per altri, loro stanno introducendo il reato universale, cioè il cosiddetto utile in affitto. La prossima volta Elon Musk non può entrare in Italia. Era una trappola. Sarà, è una trappola. Lo vogliono arrestare. Il figlio è il corpo del reato, quindi si avvitano su se stessi. La verità è che lei ha preso i voti per contrastare potentati, poteri forti, sa fare solo la guerra ai poveri, si inchina alle banche, alle quali invece ha concesso 2 miliardi, poi li ha presi, ha rinunciato e li ha presi alle tasche dei cittadini italiani. Allora, Pierluigi Bersani e Giuseppe Conte, vi dico una cosa. Noi ci stiamo chiedendo come vi potreste mettere d'accordo voi, ma se anche voi vi metteste d'accordo non bastereste, dovreste trovare pure delle persone che non sono d'accordo neanche con voi due, ad esempio Calenda, ad esempio tante persone che hanno sempre votato moderato e che non potrebbero... Ma io ho sempre pensato, adesso è vero anche per il mondo, dove si affacciano queste destre, per sconfiggere ci vuole una convergenza, un'alleanza fra culture progressiste, democratiche e liberali. Io credo che ancora noi non abbiamo, diciamo così, un apporto esplicito, sufficiente, di una cultura liberale, che in Italia, seppur in ragioni, diciamo in dimensioni limitate, c'è sempre stata, c'è sempre espressa. Sta troppo zitta questa cultura, sta troppo zitta, perché c'è qualcosa, lo stavamo dicendo, di illiberale in quello che si sta muovendo, che tocca l'economia e tocca anche il civismo. E sarebbe ora che in Italia, se c'è qualche liberale, fizesse avanti. Poi c'è chi si autodichiara liberale, io sono sempre amichevole, con talento, però non è disponibile. Laura Gobetti, ci dici il gradimento del governo e il gradimento di Giorgia Meloni in questo momento? Sì, partiamo con i nostri sondaggi Ipsos. Il cartello numero 5, gradimento del governo. Allora, è negativo per un italiano su due il 50%, positivo per il 39%, mentre ovviamente c'è un 11% di indecisi. Con il cartello numero 6, invece, abbiamo chiesto il gradimento proprio di Giorgia Meloni ed è negativo per il 49% degli intervistati, positivo per il 39%. Lo spazio c'è, Presidente. Assolutamente sì. Questi sondaggi, per quel che valgono l'attenzione, però già dimostrano che non era prima quando ha preso i voti, non è mai stata maggioranza del Paese. E ancora adesso riesce a galvarizzare un suo elettorato e probabilmente oggi chi l'ha votata perché si è lasciato convincere dal fatto che fosse coerente, oggi non vuole ammettere a se stesso che rimane deluso. Ma progressivamente tutta questa capacità comunicativa, questa vis comunicativa, si sgonfierà come un soufflé e noi ne pagheremo le conseguenze. La vis comunicativa è anche data, secondo molti osservatori, dal controllo della informazione. C'è stata la polemica sul direttore Rai presente a Treiu, ci sono polemiche continue sul tema. Bersani? Nessuno è innocente, però questi stanno esagerando e l'esito è che daranno un ennesimo colpo che temo, se va avanti così, sia mortale, a una delle più gloriosi aziende di questo Paese. Ma io non capisco perché non la si legga mai sotto il profilo industriale questa vicenda. Ma qui si sta andare avanti così, la si ammazza un'azienda. C'ha 10-12 mila dipendenti, c'ha una storia enorme. Presidente, mi dica tre punti su cui vi incontrerete a breve con il PD. Sicuramente mi piacerebbe col PD affrontare complessivamente questo problema della questione morale che ha tanti addentellati e tante applicazioni e a noi ci sta particolarmente a cuore come modo di governare e di rispettare le istituzioni con onore e disciplina e soprattutto non fare la guerra ai poveri e inchinarsi ai potenti, alle lobby. Questo è il primo punto, è un problema di metodo. Poi ovviamente abbiamo lavorato molto bene sul salario minimo, abbiamo anche la prospettiva che viene sperimentata in tattissimi Paesi di riduzione dell'orario di lavoro, del tempo di lavoro. Possiamo lavorare, ovviamente, noi ci interessa lavorare sulla transizione ecologica perché l'approvvigionamento energetico è un problema fondamentale anche per il Paese e poi vorremmo anche affrontare le questioni di politica estera. Un domani, se lavoreremo insieme, vorremmo capire veramente qual è la sintesi del PD e dei nostri alleati sulle questioni a partire da Gaza, a partire da tutti i conflitti e soprattutto si abbraccia il multilateralismo e il multipolarismo oppure se si pensa che dobbiamo sempre seguire le indicazioni che ci vengono dettate da altri. Ce l'hai in mente un nome che potrebbe mettervi d'accordo? Guardi, io penso... Non dirmelo, ma ce l'hai in mente. ...che i nomi che potranno mettersi quindi non me lo faccio neanche... Io dico che... Non è vero che anche questo è un problema naturalmente ma va visto in fondo sto problema. Io aggiungo ai temi che adesso Conte diceva ragazzi, la sanità sta venendo giù... Assolutamente d'accordo. ...una proposta comune sul fisco. Qui si sta dividendo l'Italia a pezzi a partire dal sistema fiscale. Questi ci lasciano l'Italia a pezzi, l'Italia corporativizzata, frantumata, divisa, risosa. Fisco, sanità, politica estera. Politica estera, su questo tema non si scherza bisogna vedersi e trovare giustamente il punto d'equilibrio perché grossomodo le cose che adesso stava dicendo vanno benissimo, non c'è problema. Dopodiché bisogna aggiustare... Grazie Conte, grazie.